Allora nel video precedente ho parlato di corsi e di pacchetti di riparazione. I corsi in genere sono di gruppo, però considerate che se vi servono dei corsi di più giorni, anche individuali, è possibile farli. Ovviamente adesso, in un'altra stagione, il costo sarebbe equivalente alla riparazione delle vetture, quindi mediamente la riparazione è di una vettura al giorno, il corso diventa poi antieconomico. Se al posto di riparare le vetture devo insegnare come si eseguono le riparazioni. Però adesso ancora una ventina di giorni in bassa stagione, se avete bisogno, ripeto, anche di corsi individuali, è possibile seguirli, è possibile organizzarli. Se invece siete dei privati che volete comunque iniziare a vedere come funziona questo tipo di lavoro utilizzando le ventose, è disponibile il corso online sull'utilizzo delle ventose. Costa qualche decina di euro, però vi dà le basi sull'utilizzo delle lampade, che è identico anche quando si utilizzano le leve, e con le ventose già riuscite a riparare dei bolli, diciamo succofani, che potete acquistare tranquillamente in demolizione. Potete vedere se questo è un lavoro che vi piace, se avete pazienza e se avete costanza e voglia comunque di andare avanti e di imparare. Fatemi sapere se video di questo tipo vi interessano, ci vediamo nei prossimi video. Ah, dimenticavo, iscrivetevi al canale e condividete.